La Regione Calabria è attenta anche perché l'agricoltura è il futuro in questo momento di crisi che noi stiamo attraversando e noi abbiamo avuto come assessorato delle belle soddisfazioni in quanto siamo riusciti a spendere molto dei fondi comunitari e siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda il PSR nuovo, il PSR dell'agenda europea 2014-2020 e vogliamo incentivare le montagne sia come infrastrutture sia come agricoltura e certamente i piccoli contadini dovrebbero fare anche la loro parte, consorziarsi, avere la voglia di superare questo momento e superare questo momento significa doversi unire e fare anche questo che oggi sto vedendo qui, è una bella iniziativa.